Musica Guarda che ci sono carabiniere che mi stanno seguendo E che vuoi giocare adesso? Musica Beh, hai trovato tutto così? Ma che cazzo è questa camera? Eh, Marianne, a Cape Napoli Ah, e che sarebbe sta Cape Napoli? E che ne sacci? Eh, Marianne, a Cape Napoli Io so soltanto una cosa Che hai febbra Ma non so bene com'è successo Deve essere caduta dalle scarpe Io stavo lì per pura coincidenza Ma che dici, Francesco? Meglio che torna a casa, eh? Così non approfittiamo troppo della ragazza che sta con Viola Qu'è? Grazie a tutti